Ieri va della giornata, razzarimmo un'eridate, con bravure io talvis, la mia tua parinti amici, tutti insieme in vecchiazzute, ascoltarimmo un'estoriute, conti in succemo stidì, ogni dì si fa scossì, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, tutti i miei dovranno urlare, non sta pieni di papà, non sta alla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà, e non sta alla lontan, lontan, sta fermi a chiara la mamà. Frutti, ben chiatate, si diceva che la settimana passata Daria aveva esagerato un'evole col mangiare, e che gli è restata tan male. Robi di maz, c'è diseso, non si può dimmige mangiare robi plenissi di succare e di grasso. Ben, per fortuna, Daria ha capito che non poteva più lì in davanti così, e ha scominciato a mangiare, senza esagerare con le quantità, robi più sani. Così, beh, ho deciso, anche insieme con fri e con ulli, di chiatarsi un'edì per settimana per fare gynastica insieme. Fa movimento, e è la roba più importante che si ha di fare per vivere bene. Finito anche voi altri con noi? Sì? Allora, prendi tutto, a nemmeno acclamare fri e ulli. Frutti, io dico che mi acclamo i nostri snufs amici. Per acclamare bene e per fare i viodi, ho vinto anche i nostri bracci, e non ho lavo, così. Provate a farlo con me. E con me, ho vinto di giunta un piccolo salt, in tanto i bracci vanno ad alto, così. Provate a farlo di nuovo con me. E per ultimo, ho giuntare in la voce, così. Frì! Ulli! Provate a farlo insieme, anche ora più forte. Frì! Ulli! 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 Mandi a misi nostri! Voi soviu tutti che sono anche i frutti. Ben, voi usviu tutti i plenzi di energie. Bravi! Come? E manchia doma di aria? Anni a chioli le a chiase so. O sei sicura che non stai dispietanti un'impazienza? Frutti! Provate anche voi altri, sa fa come noi. Fond di baruffavo altri stoni. Com'ò? O tu careste puarte insieme? E c'è un cestorio? Se no, ovvignerei io a clamare al vostro poest. C'è diseso? Clamingle come che Dio comande. E vuoi altri sfrutti? Daidnos une man. Un, due e tre. D'aria! Di nuovo, più forti. Un, due e tre. D'aria! Mandiamis, becca cos'oi. Se so pronto per nostra prima session di ginastica? C'è così. Ma chiale che no, vigni attaccato con piccoli esercizi divertenti prima di come. Ma mio Dio bene. Ve sopportate anche i frutti di chiesa con voi altri. C'è bene l'idea. Allora possiamo cominciare tutti insieme. Proviamo a fare questi esercizi. Così. Facciamo un po' di chiamare sui rossi partieri. Così. Prendiamo la schiena in giù. Con la mano facciamo un po' di chiamare sui partieri. E facciamo un po' di chiamare sui rossi partieri. in davanti. Così. Ecco ora. Provine a chiamare di schiamare tutto il peso del corpo sui nostri talons. Così. E poi dopo, sempre più forte. E come ho frutti? Provine a slunghiare i nostri muscoli. Così. a ciamare. E a drette. Bravs. A ciampe. E a drette. Bravs. Ho soi biel già stracche io. Io i. C'è sudadis? Beh però. Mi sento già mi or. Bisogna allenarsi. E fa movimento ogni settimana. E vuoi altri frutti? C'è un vada. Sviota un ticchini stracuz. Oh, Daria! Per farci così in più stracchi. La prossima volta ovi indivisassi che lei è più lisera e divertente fare ginnastiche con la musica. Ise vere ulli. Ise vere fri. Brabrabra. La prossima volta ovi indivisassi. La prossima volta ovi indivisassi. La prossima volta ovi indivisassi. Sicur' con te. La prossima volta ovi indivisassi. Resistenza è il giuatore. Il ciclista. Il ciclista. La prossima volta ovi indivisassi. Il ciclista. Il ciclista. Il ciclista. Il ciclista. Il ciclista. Angei, patinato, elegan e cagarin, al balearitti, il ballarim. Il sportifino è tardò, in testo è un tan sudor, alle informe trasporti, sempre ilegri lui albì. Il sportifino è tardò, in testo è un tan sudor, alle informe trasporti, sempre ilegri lui albì. Il sportifino è tardò, in testo è un tan sudor, alle informe trasporti, sempre ilegri lui albì. Il sportifino è tardò, in testo è un tan sudor, Alle informi e bravo sportivi, sempre i negri noi al di. Facciamo un gioco, vi ho detto, se avete ascoltato con attenzione la chiamcione che vi chiantate io è chiara. Quali sono le immagini che rappresentano i sport nominati in te chiamcione? Ho 10 secondi a disposizione, stai pronti? Allora, via! Le immagini che rappresentavano i sport nominati in te chiamcione, ha ieri in quest'is. Ve vi so' induvinati? Bravs! Muoviti Di futura edizioni Golaine Free & Ulli Progetto finanziato di Arlef Venga stai la agenzia regionale per l'enche furlane I love run Ustie Free al corda ura Ulli Ulli al sbole vie come un'esate per non farsi chiapà Ulli al fa su un'eschiocche di gire voltis Free al salte come un'esuste Ulli al vongole teage Free al nade a crott Ui ne gnot Sveso quale che è la miglior dieta per un sportivo? Il salte dal pasque Un sior ha avviato un frutino che si sforcia di su una una e quarte Ma ha le masse piccine per arrivare La seccofasi io I disse il sior E al su nel campanello Brav! Al disse il frutino Come schiampi! Sesso buoni di fevelà per furlan Inviate un vostri video Indulà che non smandai su un pensier Une chiancione Une barzalette Une conte per furlan O un vostri disegno Lì che si vio di un momento in particolare Di una puntata di mamma Mandate al numero 333 7202 Vot 1 4 Oppure è direzione di queste elettroniche Mamma Cajut tvstar.com Occhio! Il telefono tal va tenuto in orizzontale E no in verticale Ma della ora è un vesti capì Manghiamo dulci insieme Calzoni e pescì Tale con ghiando Voliamo parecchia Laviamo e i tanti Anni a mangià L'arriva della giornata L'arriva della giornata L'arriva della giornata E non sta la lontan lontan Sta per cacchia la mamma E non sta la lontan lontan Sta per cacchia la mamma E non sta la lontan lontan Sta per cacchia la mamma mandi, vedi, fai tu vuoi, io, Chiara, Fri e Ulli ho fatto il nostro primo inquintore di ghinastica io ho fatto sudare credo che mi ha detto che non facevi movimento la settimana passata ho capito che ho vedi esagerato mangiando un avore di cose che fanno male al salute e c'è tanti sori davanti alla televisione davanti al computer Chiara mi ha detto che per stare bene bisogna fare allenamento, movimento o giù che stai via e così vuoi ho vinto cominciato con la prima lezione di ghinastica con il giardino di mamma insieme con i frutti di chiesa sai tu che ogni nostro movimento ogni cosa che facciamo può diventare una bella ghinastica che ci fa bene al salute super pelandrone vieni anche tu con noi non sono schialdati i moschi vieni ma tu la basto chiale che ti chiappi eh mamma io mi vado la giornata rasarim un'eridate con bravura e io tal dis la mia tu pari in camis tutti insieme in tecchia zutte ascoltarim un'estori utte conti sux e mui sti di ogni disi fa scusi in mezzo e non sta Grazie per la visione!